Allora, facciamo un test. Bravo! Bravo, bravo! Ok, questo è il test del... si chiama anche Zen Dog. Praticamente è il test della gestione della frustrazione, nel senso che io chiudo il boccicino, lui sa che c'è, chiudo la mano, e non apro la mano fino a che lui non rinuncia. Ah, è rinunciato prestissimo, quindi è facile collaborarci con un cane così, perché comunque non è eccessivamente possessivo, ok? Quindi il suo istinto predatorio che c'è, però non è improntato alla possessività. E qui sto controllando anche il... quanto usa la bocca, quanto usa la bocca per costringermi ad aprire la mano. E anche lì ha usato pochissimo i denti. Quindi, la problematica di cui parlavamo, che è quella di appunto usare i denti, è assolutamente legata in questo momento alla sua età e al fatto che gli hanno foschioli i gengiri e ha bisogno di mordicchiare, ok? Lui mordicchia un sacco di cose, i sassolini... Ah, i sassolini li mangia spesso, quello su... Ma li mangia, li metti in bocca, li... Li mordi, li mordi, li mordi, li mordi...